Una cosa che dovevo dire, c'è un film che comincia alla metà e si espande verso indietro che si chiamava Gli amori di un'impiegata delle poste, di Dujan Makaveyev. Ma quello che le volevo domandare è, c'è qualche scene che non c'erano nel film precedente? Ci sono delle aggiunte? Ci sono degli tagli?